Nel nostro lavoro il progresso è onnipresente. Lavoriamo sempre con nuovi approcci, precisi e migliori. Ricerchiamo soluzioni per affrontare le sfide che il quotidiano impone alla nostra professione. Esploriamo nuove strade. La tecnologia è l'impulso per andare avanti. Non produciamo materiali e componenti singoli, ma aspiriamo un sistema olistico ben concepito che ci offra nuove possibilità e che ci aiuti al tempo stesso a creare opere d'arte. Un sistema attestato con cura, per ottimizzare il lavoro quotidiano nel laboratorio. Un sistema che perfezioniamo, condividendo ciò che facciamo. Il progresso non contrasta con la nostra arte tradizionale. Rende possibile l'immaginario. Offre nuove prospettive. È una fonte di motivazione. L'essere odonto-tecnico va oltre la tecnologia e il progresso. Implica la consapevolezza della tradizione, una profonda esperienza e dedizione. La purezza della sensazione dà un senso all'estetica. Prestare attenzione ai più piccoli dettagli. Osservare tutte le sfumature. È il desiderio di imitare la perfezione della natura. Si può percepire la bellezza quando coi propri occhi si contempla l'essenziale. Un lavoro manuale è un'arte umana. Che macchine e prodotti, software e computer, non possono sostituire, ma solo supportare. Questa coscienza Emerge dalla nostra autenticità. Dalla nostra terra. È l'orgogliosa vocazione Di essere odonto-tecnico. Condividiamo Ciò che facciamo Das è un'attutee. Di essere odonto-tecnico. Ciò che facciamo